Il settore tecnico di concerto con la Polizia Municipale, diretta dal comandante Gerardo Iuliano, ha concluso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della lottizzazione abusiva denominata Villaggio Iris, sia delle aree che dei manufatti privi di titoli abilitativi realizzati abusivamente in località Spineta Nuova da committenti vari, prevalentemente dell'Interland napoletano, già dal 2013. Tale procedura è scaturita per effetto del diniego dei condoni edilizi proposti dai committenti che hanno consentito alla pubblica amministrazione di poter procedere alla confisca delle aree, nonché al successivo abbattimento dei manufatti abusivi con l'acquisizione delle aree di sedime. La Polizia Municipale ha inoltre svolto controlli sulla sicurezza stradale mediante targa scanner. Negli ultimi due mesi sono stati elevati 32 verbali per mancanza di copertura RCA e 172 verbali per mancata revisione periodica. Controlli anche ad industrie lattiero casearie e quelle meccatroniche, procedendo con personale ASL ed ufficio ambiente di Battipaglia, coordinato dal dirigente del settore tecnico ingegnere Carmine Salerno, ad accurati accertamenti per complessive 14 attività, riferendo di tale attività l'autorità giudiziaria. È in programma il controllo del fenomeno delle occupazioni abusive di solo pubblico innanzi agli esercizi commerciali.